I nostri cittadini si aspettano che noi siamo pronti per qualsiasi eventualità, lo ha detto una portavoce del Ministero delle Finanze tedesco rispondendo a chi le chiedeva una conferma della preparazione di piani di emergenza da parte della Banca Centrale Europea e della Commissione Europea da attuare nel caso la Grecia lasci l'Eurozona. La cancelliera tedesca, anche la Merkel ha intanto telefonato al presidente greco Papoulias per discutere della crisi che ha investito in Atene. Lo ha reso noto un portavoce a Berlino secondo cui la Merkel ha espresso l'auspicio del governo tedesco perché in Grecia ci sia un governo operativo. Papoulias informerà il premier facente funzione del contenuto della telefonata. Lo ha reso noto la televisione di Stato greca. La scritta Orsi a morte con la sigla BR e la stella a 5 punte è stata trovata questa mattina in un ufficio di Anzaldo Energia in via Lorenzia Cornigliano, frazione di Genova. Giuseppe Orsi è il presidente e l'amministratore delegato di Finmeccanica, gruppo di cui fa parte Anzaldo Energia che a sua volta detiene il 100% di Anzaldo nucleare. La minaccia trovata al quarto piano arriva dieci giorni dopo la gambizzazione di Roberto Adinolfi.